I consigliari regionali hanno celebrato la festa della liberazione partecipando a tante iniziative diverse in Toscana, la manifestazione principale, anche per il valore che ha questo luogo, c'è stata a Sant'Anna di Stazzema. Quella libertà conquistata 78 anni fa a caro prezzo deve essere difesa e va inseguita anche la pace in un mondo insanguinato ancora oggi da tanti conflitti. Ascolteremo gli appelli del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio regionale. L'ultima seduta del Consiglio regionale ha coinciso, come sanno i nostri telespettatori, con la verifica di metà mandato. Sono stati rieletti il Presidente Mazzeo e tutto l'ufficio di presidenza uscente e sono stati eletti due consiglieri questori, secondo quanto stabilisce adesso lo statuto. Durante i lavori è stata votata una prima consistente variazione di bilancio che destina circa 47 milioni alla sanità. A proposito di sanità è proseguito il giro della Commissione regionale negli ospedali. Stavolta tappa la Fondazione Monasterio nelle sue strutture di Massa e di Pisa. La stessa Commissione Sanità che si è riunita giovedì ha espresso cortoglio per la morte violenta della psichiarra Barbara Capovani. a Pisa è annunciato che nelle prossime settimane dedicherà una seduta alla questione della sicurezza del personale che lavora nelle strutture sanitarie. Un'altra seduta sarà poi dedicata ai problemi della salute mentale a partire dal personale, dall'organizzazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e delle REMS. Sono tanti i frutti dei progetti finanziati dal Consiglio regionale, soprattutto quelli rivolti ai giovani e ai giovanissimi. Verremo le immagini, ascolteremo i protagonisti. A Palazzo del Pegaso proseguono mostre d'eventi che ne fanno ormai uno dei poli espositivi più attivi nella nostra regione e anche un crocevia di esperienze sportive molto spesso premiate dai consiglieri. Abbiamo seguito il 25 aprile in tante piazze toscane, Firenze, Pisa, Livorno, San Giuliano Terme e Sant'Anna di Stazzema, laddove i nazi fascisti nel 1944 commisero una delle stragi più efferati di tutta la Seconda Guerra Mondiale. In queste occasioni pubbliche che abbiamo seguito da vicino, nei nostri telegiornali e nelle moltissime altre, in tutte le città piccole e grandi della regione, hanno partecipato anche molti consiglieri regionali. Il Presidente Mazzeo è stato prima a Camaiore e poi appunto a Sant'Anna di Stazzema, dove è arrivata anche la Vice Presidente italiana del Parlamento Europeo. Sant'Anna di Stazzema è uno dei luoghi in cui è nata la nostra Costituzione. La nostra è una Costituzione antifascista e nasce proprio nei luoghi in cui donne e uomini, donando la propria vita per noi ci hanno permesso di essere liberi e oggi vorremmo mandare un messaggio forte. Noi abbiamo inserito l'antifascismo all'interno dello Statuto, ma vorremmo fare qualcosa di più, vorremmo che ogni ragazzo e ogni ragazza toscano abbia la possibilità di venire in questo luogo per capire dove e come è nata la nostra Costituzione. È sempre impressionante leggere la storia di Sant'Anna di Stazzema, la storia del martirio di Sant'Anna di Stazzema. Vedere poi quei volti, come ho fatto stamattina al Museo delle Resistenze, è qualcosa che ti rimane scolpito davvero nella mente e nel cuore. Deve essere un monito. Lo è per il Parlamento Europeo, lo deve essere per tutte le istituzioni italiane. Il monito deve essere quello di ricordare, perché non accada mai più, perché quel mai più sia scandito con tutta la forza che abbiamo. Le istituzioni devono impegnarsi per continuare a fare memoria, tutte le istituzioni devono impegnarsi a continuare a fare memoria di questa tragedia, di tutte le tragedie che sono avvenute nel nostro paese. A Firenze una delle celebrazioni con più gente e molte persone c'erano anche a Pisa e Livorno. Ecco le piazze di Livorno. E qui invece siamo a Pisa, significativa nel Pisano, anche la celebrazione al Sacrario della Romagna nel comune di San Giuliano Terme. I due vicepresidenti, Marco Casucci e Stefano Scaramelli, sono intervenuti nelle loro città Arezzo e Siena. L'appello congiunto, che poi è di tutto il Consiglio, è per la libertà e per la pace. Dobbiamo tutelare la pace, la libertà e dobbiamo farlo in gioco di squadra tra istituzioni e territorio e ogni campanella di allarme che possa farci preoccupare per l'odio, per la discriminazione deve essere colto e dobbiamo agire dando risposte concrete. E impegnandoci in modo serio e quotidiano che possiamo celebrare autenticamente il 25 aprile. Il Consiglio regionale con le proprie istituzioni vuole essere vicino al territorio e la festa del 25 aprile, la festa della liberazione, la festa di tutti i cittadini toscani che credono nelle istituzioni, nella propria libertà e credo che oggi sia stata una grande giornata di festa ed era doveroso da parte nostra essere presenti e poi essere in Piazza del Campo ovviamente per me è un onore incredibile perché ovviamente è una piazza che denota la sua bellezza, la partecipazione di popolo oggi ha dimostrato quanto questa festa fosse veramente sentita. Su Tele Gran Ducato la festa della liberazione è stata accompagnata da una serie di speciali televisivi con tanti esperti e con gli studenti delle scuole superiori, protagonisti di un'attività di studio e di ricerca su quanto accadde nel ventennio in Italia, nella seconda guerra mondiale, nella lotta di resistenza, nella costruzione della nostra Costituzione. Le ultime puntate sono ancora in onda in tv, presto saranno tutte disponibili nei nostri canali web e social. Le loro voci a caldo dopo le elezioni le abbiamo sentite tutte, facciamo una sintesi però di chi compone adesso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tutti i suoi membri, quelli votati già il 19 ottobre 2020, sono stati tutti rieletti. Presidente l'est Antonio Mazzeo, i suoi vice sono Marco Casucci e Stefano Scalamelli, segretari Federica Fratoni e Diego Petrucci. In più ora ci sono due nuovi consigliari questori, Francesco Gazzetti e Marco Stella. Perché questo allargamento lo abbiamo chiesto al Presidente che è intervenuto in diretta tv sul Tele Gran Ducato nel nostro programma Il Mio Consiglio. Sono due figure che daranno una mano per il miglior funzionamento del Consiglio regionale, lavoreremo a rivedere il regolamento insieme a loro, costruiremo le condizioni perché l'Aula Che ha un input forte che hanno dato il capigruppo. Me l'hanno dato tutti, io lo condivido e devo dire che io l'avrei voluto fare già nella prima parte della legislazione. C'era una grande distanza tra maggioranza e opposizione, io spero che si possa colmare questa distanza e si possano definire regole comuni, non mi piacerebbe arrivare a votare un regolamento a maggioranza. Diciamo che non è una corsa alle poltrone ma è per far lavorare meglio il Consiglio. Per lo meno io l'ho inteso sempre così e credo ci siano le condizioni. Nell'ultima seduta si era deciso anche altro, intanto come avete visto nella nostra precedente puntata che è ancora online sul sito del Consiglio regionale è stata approvata la nuova legge sull'agricoltura sociale che per la prima volta disciplina la parte che riguarda le fattorie educative e sociali con la legge a cui tutti hanno detto sì, vengono individuati i soggetti legittimati a fare agricoltura sociale, gli accordi e le collaborazioni anche per integrare i fragili, i migranti, gli assistenti. Poi a maggioranza è stata votata la prima variazione dell'anno del bilancio regionale che come abbiamo accennato sette giorni fa destina 46,92 milioni alla sanità. Si apre il dibattito, a tratti anche astro, ascoltiamo subito per la maggioranza il Presidente della Commissione Bilancio che spiega i dettagli tecnici. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana come del resto da parte anche delle altre regioni italiane a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio quest'operazione, si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di cassa depositi e prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro. Entra maggiormente nel merito il Presidente della Commissione Sanità che rilancia la questione allo Stato, altrimenti, dice, le Regioni da sole non ce la possono fare. Sì, è un intervento importante perché con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022 che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale e che anche i media stanno affrontando finalmente in maniera adeguata e cioè sul finanziamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% dei PIL, il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8% di Germania, di Francia, contro il 7,5% della Gran Bretagna. Vuol dire cioè che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario se volessimo essere al pari di Germania e Francia o almeno 20 se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte, altrimenti le Regioni saranno sempre costrette a dover far variazioni, adeguamenti. Sono molto critiche invece le opposizioni. Tutte ascoltiamo alcuni giudizi in questa rapida carrellata che parte proprio da chi difende l'operato del Governo. Il Governo Meloni è il Governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quella fondo ne viene una quota parte anche alla Regione Toscana e così riesce la Regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Danni che sono sotto gli occhi di tutti. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2.000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto. Un primario ogni 10 posti letto. Quindi quando l'assessore Bezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per fare cosa? Per fare il 2.000 primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo e le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere la lista di attesa. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari. Sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione è permanente, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione. C'è anche chi sottolinea in forma negativa i troppi interventi fatti dalla regione toscana sul bilancio della sanità negli ultimi mesi. Se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Ancora due pareri, gli ultimi che abbiamo registrato bilanciando naturalmente maggioranza e opposizioni. Ho sempre rivendicato il fatto che non servisse a aumentare addizionale IRPEF e che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate e la sanità dimostra ancora una volta, a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti, ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare, soprattutto rispetto all'assistenza dei territori, ad alcune risposte rispetto alle liste di attese e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Su questo continueremo a lavorare. Vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Lo ricordo, il bilancio della regione che è di circa 13 miliardi di euro ogni anno, quasi all'80%, dal 70 all'80%, è destinato alla sanità. Si parla ancora così poco di prevenzione e di tutela anche della salute e della sanità che non sono accettabili spostamenti simili se non sono attentamente mirati e soprattutto se non sono cause davvero di emergenze. Di sanità si era parlato a lungo anche per la questione delle graduatorie e degli operatori sociosanitari di iniziativa, a cui ha risposto l'assessore dicendo che non sono in programma nuovi concorsi nel 2023, era partita dal consigliere Stella. La graduatoria ha detto Bezzini vale ancora e appunto nell'immediato non sono previsti concorsi. Da oggi comincia un percorso diverso, noi continueremo a sollecitare naturalmente i nostri parlamentari, il Ministro della Salute, affinché ci sia una proroga per lo meno di un anno. Noi chiediamo due anni ma per lo meno di un anno per tutte le graduatorie che riguardano il comparto della sanità regionale. Questa è una prima buona notizia per le oltre 2000 persone che sono risultati idonei a quel concorso. Non ci fermeremo qui, continueremo la nostra azione. L'assessore ha ribadito il concetto, cioè la possibilità di scorrere la graduatoria o comunque di mantenere in vigenza la graduatoria oltre i due anni consentiti attualmente dalla legge spetta a livello nazionale che deve appunto intervenire su una norma, prorogando di almeno un anno, richiesta che la Toscana ha già avanzato e che è stata fatta proprio anche dalle altre regioni. Dopodiché chiaramente c'è tutto un lavoro che riguarda vincoli che risiedono ancora su livello nazionale rispetto ai tetti di spesa e anche ai numeri assunzionali. La cronaca però negli ultimi giorni ha preso il sopravvento ed è la cronaca di un terribile omicidio che ha scioccato l'Italia, quello della psichiatra Barbara Padovani a Pisa, tantissimi messaggi di dolore e di rabbia per quello che è accaduto. Adesso si è mosso il governo e nelle prossime settimane si attiverà anche la Commissione regionale per sanità e politiche sociali, oltre ad esprimere un anime cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, ha annunciato infatti che convocherà una seduta dedicata alla questione della sicurezza del personale che lavora nelle strutture sanitarie e un'altra seduta sarà poi dedicata ai problemi della salute mentale, quelli del personale, dell'organizzazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e del sistema delle REMS, le residenze per esecuzione delle misure di sicurezza, di cui tanto si sta parlando in questi giorni. Ma la Commissione, anche questa Commissione, ha proseguito pure le proprie attività sul territorio. E dunque continua il viaggio nei luoghi della sanità toscana, prime tappe nei mesi scorsi nel Grossetano, al nuovo ospedale di Pisa e a Firenze. Adesso i consiglieri hanno visitato i due ospedali della Fondazione Monasterio. Prima sono stati all'ospedale del Cuore di Massa, poi nel pomeriggio hanno concluso la visita a quello di San Cataldo a Pisa. Sono contento che si chiuda qui perché è da dove tutto è partito, da dove è nata l'idea del professor Donato, che poi questa idea è cresciuta e esplosa. Qui a Pisa hanno potuto vedere tutta la nostra piastra diagnostica, la nostra TAC a photon counting che è la prima nel sud d'Europa, la seconda in Europa nel mondo dedicata interamente alla cardiologia. Hanno potuto vedere da vicino tutte le attività ultra specialistiche che vengono fatte, anche la cartella clinica elettronica, apprezzandola veramente fino a un fondo. E poi si è concluso con un evento non previsto, la testimonianza di un paziente, un paziente che ormai ci segue da più di 20 anni e che ha voluto testimoniare alla terza commissione la qualità del servizio che riceve presso il nostro ospedale. Qui dunque ricerca e cura si fondono, laboratorio e reparto sono complementari l'impostazione multidisciplinare integrata a un'eccellenza, insomma riconosciuta anche nelle dichiarazioni finali dei consigliari presenti. Sì, la visita rientra nell'ambito delle visite che stiamo facendo dei presidi sanitari e delle aziende del sistema sanitario regionale. Questa visita conferma l'idea che avevamo, cioè la fondazione Monasterio è un'eccellenza per la Toscana e per il paese perché grazie all'idea illuminata del professor Donato siamo riusciti con questa fondazione a mettere insieme la ricerca, alto livello di ricerca e di competenze scientifiche alla clinica. E questa è una combinazione assolutamente vincente, la sanità, l'alta qualità della sanità del futuro si ha laddove si ha ricerca, personale motivato e capacità di trasferire immediatamente la ricerca alla clinica. Io che sono un medico sono rimasto positivamente impressionato dalla competenza e dalla preparazione non soltanto medica degli specialisti ma anche dei mezzi con i quali si approcciano al paziente. Per cui per la Toscana questo è sicuramente un grande istituto. bisogna contestualizzarlo nell'ambito della sanità toscana che purtroppo ha tante altre pecche. Sono due le commissioni che hanno fatto visita al carcere di Volterra, la prima e la quinta, ovvero quelle per il bilancio e per la cultura c'era anche il garante dei detenuti. Anche in questo caso si tratta di una tappa di un percorso più ampio, la terza tappa dopo Sollicciano e Massa. Quali sono le emergenze, il peggioramento della qualità della vita con atti di autolesionismo e richiesta di psicofarmaci e la scarsa capacità di formarsi preparandosi al reinserimento. Ma c'è anche qualcosa che funziona davvero? Devo dire che appena usciti dalla casa di detenzione di Volterra le impressioni e le emozioni sono molte. Siamo di fronte a un'esperienza carceraria senz'altro singolare, di grande livello. C'è le singole, un buon clima tra detenuti e personale di sorveglianza con delle esperienze straordinarie che sono soltanto qua come l'esperienza della Compagnia della Fortezza e il lavoro del teatro in carcere che si fa in tante carceri toscane ma che qui ha una punta di eccellenza che ha avvalso al regista Armando Punzo, ideatore e promotore da 35 anni di questo bellissimo laboratorio sull'uomo come lo chiama lui, il leone d'oro alla carriera che gli verrà consegnato a Venezia il prossimo 17 giugno. Volterra ci offre una testimonianza della vita detentiva del tutto diversa da quella che si può riscontrare in altri istituti della nostra regione. Qui c'è una concezione del detenuto che vede innanzitutto l'individuo con i propri diritti, con la propria personalità e anche con quel bisogno di rieducazione che è insito anche nella detenzione. Si è riunito anche l'osservatorio della legalità che è coordinato da Don Andrea Bigalli e ha ascoltato l'assessore all'ambiente Monni e l'ex presidente della commissione regionale di inchiesta Meini a proposito della questione del CHEU, delle bonifiche e del piano rifiuti. L'obiettivo del lavoro che Bigalli stesso giudica positivo dalla parte del Consiglio regionale dell'osservatorio è incrementare anche l'incrocio dei dati a disposizione. Questa è la nuova area giochi di Santo Pietro Belvedere nel comune di Capannoli. È un parco giochi inclusivo con percorso tattile e con i pannelli sensoriali. È stato realizzato con il contributo di 11.000 euro da parte del Consiglio regionale. La legge di riferimento è la numero 3 del 2022 per il sostegno a iniziative di promozione sociale e culturale e di aggregazione giovanile. Uno spazio che noi abbiamo voluto sostenere fortemente come tanti altri spazi in Toscana per dire che i ragazzi devono trovare sempre più dei luoghi d'incontro. La pandemia ci ha mandato un messaggio forte che quei momenti d'incontro purtroppo sono mancati e noi cercheremo così di contribuire a fare in modo che i ragazzi, le bimbe e i bimbe si ritrovano insieme. Sarà in questo caso l'associazione culturale Fosforos a gestire le attività teatrali e ludiche per conto del comune di Capannoli che coinvolgeranno anche gli studenti disabili. Si svolgeranno queste attività all'interno del parco. C'è anche il gioco della fattoria. Noi proviamo in maniera ludica e divertente a portare due personaggi, due contadini che guidano i bambini divisi in due squadre a giocare e a conoscere gli elementi della natura, lo scorrere delle stagioni, gli animali, ma anche questioni importanti e anche più complesse come quelle della filiera e quindi invitare i bambini a riflettere sull'importanza del consumare locale e di vivere i territori e apprezzare i prodotti e la biodiversità che il nostro paese ha, di cui dispone. Un bel percorso di integrazione dunque che fa il paio con l'abbellimento con un'opera di street art al campo di basket della vicina Perignano. L'opera in questo caso è realizzata da Nicole Pardini al polo scolastico di Perignano ed è ispirata ai temi di Harry Potter. Anche questo è un finanziamento dato dal Consiglio regionale con la legge 3 e con il bando Rigenerazione Toscana. In Consiglio regionale spesso è in primo piano lo sport, anche quello meno presente sui grandi media. Una targa è stata assegnata ad Alessandro Dressadore, giovane pistoiese protagonista dei mondiali di sci alpino per diversamente abili, che ha ricevuto una targa da parte del Consiglio regionale come esempio per tutta la Toscana. Ma cosa la spinge, chiediamo? Penso la spinge, la forza di riuscire ad andare avanti e più allenamenti mondiali, speriamo che la vinci ancora e di essere ancora più forte, di essere più intenso e cercare di far meglio il possibile. Il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farcela e il riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana. Le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino danno il senso delle qualità di Alessandro. Allora questo premio non è un punto di arrivo, vuole essere per lui un punto di partenza, speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori. E una targa l'ha ricevuta anche il Team Rossi di Arezzo, un nome ormai conosciuto nel mondo dei motori a livello internazionale e alla grande passione. I suoi promotori legano un forte spirito di innovazione. È un orgoglio aretino, in questa sede lasciatemi dire che è un orgoglio toscano, anche perché riesce veramente a coniugare la grandezza delle nostre eccellenze con l'innovazione, con l'alimentazione ibrida che è combinata anche con l'idrogeno, apre anche a nuove prospettive. Vuol dire che Arezzo e la Toscana sono innovativi e fanno stare sul pezzo e questo è un bel segnale che diamo a tutti i toscani. Sinceramente riuscire ad arrivare a un riconoscimento di questo livello dalla propria regione mi emoziona quanto mi inorgoglisce. Per me pensare che la mia passione nata tanti anni fa potesse raggiungere un riconoscimento anche regionale non ci avrei mai pensato. Noi ci fermiamo qui, ricordiamo ancora che sul nostro sito ci sono tutte le interviste e le immagini registrate durante l'evento Toscana 2050, un modo concreto per immaginare la nostra regione tra pochi anni e comunque con un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello che a volte sembra avere la politica. Ne ha parlato in diretta con noi il presidente Mazzeo, ne parlano anche tutti gli esperti chiamati a convegno. Per ora ci fermiamo qui con Regionando, ci vediamo venerdì prossimo 5 maggio alle 21.10 dopo il Tg della Sera. Grazie a tutti.